ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi mostrerò la posizione della reliquia in minecraft dungeons nel livello foresta dei creeper allora premetto che dovete prima finire il gioco quindi dovete completare il gioco almeno una volta altrimenti non potete raccogliere le reliquie fatto questo in questo livello dovete raggiungere la zona come vi sto mostrando nella mappa dove dovete liberare gli abitanti quindi raggiungete la parte bassa salite su questa piattaforma e magicamente si sbloccherà il tra virgolette dungeon dove al suo interno non ci sono nemici ma c'è la reliquia da raccogliere reliquia che poi andrà posizionata nell'accampamento adesso naturalmente vi mostro dove quindi una volta che avete raccolto la reliquia potete tranquillamente uscire dal dal dungeon da qui e tornare all'accampamento adesso vi mostro ovviamente dove posizionarla la prima reliquia l'avete fin da subito una volta che interagite con la piattaforma che è vicino alla parete nel in questa sorta di tempio la seconda è quella che vi ho mostrato in questo video quindi una volta che avete finito il gioco e sbloccato il ponte come vi ho illustrato in un altro video ed avete raccolto la reliquia tornate all'accampamento e andate in fondo ora ci mettete un po di tempo perché la strada è lunghetta non troppo però è lunghetta e una volta che siete arrivati alla fine potete posizionare la vostra reliquia quindi interagite con questa piattaforma e come potete vedere avete adesso due reliquie la prima è quella che avete quando completate il gioco interagite con la runa voglio dire qui e la seconda è quella che vi ho mostrato in questo video grazie a tutti